e cosa si aspetta da stasera questa maratona buongiorno a tutti eccoci allora felice soprattutto di essere qui di essere arrivata quando l'avvocato manuele trocino mi ha proposto questo concerto questo progetto io ho detto subito di sì come prima cosa perché io sono originale calabrese e quindi è tre bisacce tre bisacce in provincia di cosenza e quindi lavoro tantissimo in italia in tantissimi posti e poter lavorare poter sposare un progetto della tua terra ha un valore aggiunto dare poi la possibilità tanti artisti del posto di farsi conoscere di far conoscere dei posti meravigliosi che noi abbiamo quindi per me era un valore aggiunto parlarne il radio insomma parlare parlare anche attraverso i nostri social quando mi chiedi invece io ti do del tu perdonami quando mi chiedi invece del ruolo della donna e sono felice di rappresentare una donna su un parco così importante dove la musica è un connubio fondamentale la musica dovrebbe essere davvero quell'elemento che ci unisce ma non è una frase fatta una frase retorica io lo penso sul serio che la musica è serve proprio per valorizzare il tutto per valorizzare le connessioni tra le persone per valorizzare dei posti e questo secondo me è un posto da far conoscere sempre di più quindi noi con francesco rapetti mogol ci divertiremo assolutamente dovete sapere che io parto con il tacco 15 ma pian piano mi sa che scenderò dopo 12 ore avrò la scarpa da tennis però sarà un piacere ballare cantare e divertirci insieme quindi poi sono felice anche che c'è l'inaugurazione del museo casa mia martini conosco molto bene l'associazione minuetto mi mi sarà un artista che ci rappresenta tutt'oggi che è l'espressione dell'interpretazione e della genialità quindi wonderful si la festival direi che parte in questo momento prima e dopo tanti come me a cercare il mondo che non c'è nani nani questo posco ormai il tuo stesso odore di una bocca senza il suo sapore nani 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 20 euro di verginità quelli al padrone la mia che resta qua dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io sono te dimmi perché hai chiesto di andare via quando ti ho detto vieni via con me di notte un bacio vola verso l'infinito di notte di notte scopri la dolcezza di un marito di notte di notte c'è la forza di non dirmi che hai bisogno di me e fa male quando dici che sei male e non sto con te e fa male quando l'orecchietta sale e non sto con te e fa male quando non sono l'altezza di stare con te mi fa male quando nonostante tutto tu scegli me mi fa male quando non sono l'altezza di un'altezza di un'altezza di un'altezza di un'altezza suonare suonare Things like real, baby, wanna be your man Well, it's glad to see you will be for me, yeah I'm your toy, grand century boy Grand century boy, I wanna be your toy 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 Al prossimo episodio esatto non è Grazie a tutti Grazie a tutti